Lo conoscevi, vero? Avresti dovuto ascoltare quel presentimento. Proprio come io ti sto ascoltando adesso. È un predatore. Se si ferma è morto. Ama guidare. Avrà una bella auto, forse due, a chilometraggio elevato. Deve piacerle molto la mia auto. Il bagagliaio è spazioso. Conosceva i dettagli, ma era più di dieci miglia dall'omicidio. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Il bagagliaio è spazioso. Cosa vuoi fare? Voglio inchiodare il bastardo. Anch'io voglio inchiodare il bastardo. La differenza è che io lo faccio per me. Le piccole cose, Jimmy, sono le piccole cose che ti distruggono. Sono loro quelle per cui ti scoprono.